La maggioranza è totalmente in disaccordo, o meglio non hanno dato una linea. Seri nel suo intervento di 37 minuti non ha parlato di nulla e anzi ha ribadito la possibilità che se i prossimi studi futuri diranno che Bellocchi sarà il sito idoneo per la realizzazione del digestore, allora lui in quel caso sarà disponibile a rivedere anche la sua posizione. Per noi invece è importante ribadire la nostra posizione che poi è stata anche un po' strumentalizzata durante il dibattito di ieri sera perché la Lega ha sempre sostenuto che Aset è una società di servizi, è una società pubblica che deve continuare a fare servizi e non si deve assolutamente infilare in un cul de sac del genere perché sono investimenti ad alto rischio e drogati dall'esistenza degli incentivi statali. Noi siamo contrari al digestore a Fano perché farlo in qualsiasi zona della città arreccherebbe un disagio che secondo noi la città assolutamente non deve sostenere. Questi 300 mila euro paventati di risparmio, qual è la vostra posizione a questo riguardo? I 300 mila euro sostanzialmente avvalorano la nostra tesi perché è la stessa normativa che dice che se un impianto è fatto in un comune proprio per limitare il disagio che arreca e quindi diciamo che si parla già di disagio nella stessa normativa verranno conferiti 5 euro a tonnellata. Stando all'ipotetico perché chiaramente ancora non c'è nessun progetto neanche preliminare, c'è solo un pre-pre-studio di fattibilità, non si sa quanti pre bisogna mettere davanti, è stato individuato un impianto da 60 mila tonnellate che per 5 euro porterebbero 300 mila euro al comune, non alla società che realizza l'impianto, l'investimento, ma al comune. Quindi se la stessa normativa ci dice che per risanare un disagio vi do dei soldi evidentemente parlare di impatto completamente zero è forviante. Noi però in tutta onestà siamo anche noi i primi a dire che avendolo studiato in commissione di garanzia e controllo con il nostro presidente Scopelliti siamo i primi a sostenere che non nascheranno bambini con due teste oppure bimbi deformi, però è chiaro che Fano deve rimanere distante da un impianto del genere. Grazie